Le aree di risulta antistanti alla stazione di Pescara saranno sempre meno di risulta e sempre più fondamentali per la città. L'annuncio del sindaco Masce con la sua giunta. Nonostante non abbiano partecipato i privati, l'amministrazione Masce va avanti per la sua strada con 20 milioni di euro, 15 del masterplan e il resto della fondazione Pescara-Bruzzo e 600 mila di tua con i lavori che inizieranno a fine 2022 con la bonifica dell'area e presumibilmente da 2023 quelli per un primo parcheggio e un parco in vista della realizzazione dei palazzi della regione e dunque di un possibile accordo con l'ente. Dopo decenni dovrebbe partire la riqualificazione delle aree di risulta che sono il biglietto da visita della città di Pescara, soddisfatto il primo cittadino. Come tutti sanno noi abbiamo a disposizione circa 20 milioni di euro per realizzare sull'area di risulta degli interventi. Per completare il progetto che è stato approvato in Consiglio Comunale ne occorrevano circa 45 e per questo abbiamo avviato quel procedimento che avrebbe coinvolto i privati. Poi è successo di tutto, la pandemia, la guerra, i prezzi aumentati. I privati evidentemente non hanno voluto investire su un'operazione del genere ma noi non ci fermiamo perché non vogliamo fermarci perché vogliamo realizzare quel central park al centro della città che tutti aspettano da troppi anni. E quindi cominceremo con la bonifica dell'area. Faremo un intervento all'ottimo in modo tale da non pregiudicare l'utilizzo dei parcheggi che sono fondamentali per la nostra città e in questo intervento partiremo con la bonifica, poi realizzeremo il primo parcheggio a sud, il parco e proseguiremo poi con l'intervento che coinvolgerà anche la regione perché come sapete la regione ha espresso la volontà di realizzare la sede della regione Abruzzo all'interno dell'area di risulta in quello spazio che è stato tenuto fuori dal progetto complessivo che è stato definito il campo che è di circa un ettaro dove la regione vuole realizzare al centro della città di Pescara la sede. Quindi è un progetto molto articolato che adesso cercheremo di realizzare con le risorse pubbliche a disposizione aspettandone altre. Oggi iniziamo un procedimento attraverso l'approvazione della delibera numero 432 del 24 maggio. Sindaco, quando partiranno i lavori? È impossibile fare previsioni? Quando potrebbero finire, almeno per il primo lotto? I lavori di bonifica potrebbero partire nel giro di 4-5 mesi, nel senso che adesso si deve fare il progetto di bonifica e dopo il progetto si farà la gara per assegnare l'attività di bonifica a una ditta specializzata. Come ho detto si farà all'ottile intervento e questo ci permetterà di realizzare in tempi relativamente brevi il parcheggio nella zona sud e poi il parco senza rinunciare al parcheggio attuale.